Con ulteriori 2 milioni di euro la Regione Friuli Venezia Giulia intende favorire l'intermodalità nel Porto di Trieste. Sì, è un provvedimento che si situa nella scia ormai di una collaborazione anche di carattere economico tra la Regione e il Porto di Trieste per il rafforzamento dei traffici ferroviari. Devo dire che i numeri che nel 2015 il Porto di Trieste ha presentato come aumento dei traffici e quindi come efficientamento di tutto il sistema logistico afferente al Porto fanno un ottimo rendiconto rispetto a questi stanziamenti che la Regione convintamente continua a porre sul Porto. Possiamo dire esattamente, più nel dettaglio, come verranno utilizzati questi finanziamenti? Sono utilizzati per quanto riguarda la manovra ferroviaria e quindi per quanto riguarda tutto lo sviluppo dei traffici ferroviari da Trieste per il resto d'Italia ma anche per l'Europa.